Sicuramente è una soddisfazione perché essere tra l'altro avvicinato tra grandissime società a coniugare quella che è una verità, il fatto che queste quattro società non sono mai retrocesse nelle serie cadette. Quindi è un motivo di grande orgoglio e deve essere di stimolo anche per quello che può essere il futuro perché questa è una magra soddisfazione e dobbiamo cercare di puntare più in alto. Ci sono le possibilità di andare a vincere il campionato? Assolutamente bisogna credere in questa realtà perché siamo qua non per fare delle comparsi, certo ci sono degli avversari guerriti però ci sono ancora 18 partite e quindi ci sono tantissimi punti a disposizione e cercheremo di farne il più possibile. Tu dici sempre se ci sono delle opportunità le cogliamo, mi dici se ci sono. Ci sono, ci sono. Ci sono? Coglieremo, coglieremo. Ti dico una cosa ai milanisti che state comprando tutti quanti, loro ne hanno preso uno, ne hanno preso. Questo di gennaio, come ho detto più volte, non è un mercato in cui si può scegliere questo, 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 ma è un fatto di opportunità. Le opportunità sono poche perché i migliori giocatori si devono tenere in squadra e di conseguenza vedremo un po' di migliorare quello che è un organico e comunque è già di grande qualità per noi.